Ciao amici! Questo è un quiz! È di colore rosso e fa subito estate. Cos'è? È Squaletto Baywatch? Anche lui! Ma io pensavo a qualcosa che possono avere a casa i nostri amici. Dai, ve lo dico io. Cos'è? È l'anguria! Cosa c'è di meglio di una colorata, succosa, dissetante, profumata anguria per godersi l'estate? Il nome scientifico è Citrullus lanatus, ma in Italia ha tanti nomi. Anguria, cocomero, cocomera. Dite a voi come si chiama? Scrivetemelo nei commenti qui sotto, sono curiosa, lo sapete. Oggi voglio darvi alcune ricettine spiziose per gustare l'anguria in modo creativo. Così non vi stancate mai di mangiarla e potete godere dei suoi tanti benefici per tutta l'estate. E se l'idea vi stuzzica, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Come antipasto. Gustala con un po' di spezie piccanti come pepe, paprika o peperoncino e una spruzzatina di lime o limone. 2. Tagliela a cubetti e condiscila con un po' di olio e feta per un pranzo o un break spezza fame, leggero ma ricco di gusto. 3. Aggiungila all'insalata e condiscila con un po' di salsa di soia e limone da mangiare rigorosamente come prima portata. 4. Prepara delle fettine, insaporiscile con un po' di senape e mettile al posto del pomodoro in un tramezzino o in un panino e il sapore contrastato lo renderà molto particolare e gustoso. 5. Con la polpa dell'anguria fai delle palline, mettile nel freezer, ghiacciale e poi usale come cubetti di ghiaccio nei tuoi cocktail o nelle bibite. 6. Tagliala a dadini, mettila nell'acqua per fare un infuso aromatico insieme a qualche foglia di menta. 7. Frullala e bevila nel bicchiere per avere una consistenza vellutata. 8. Fai un ghiacciolo con il succo dell'anguria ghiacciato con uno stecchino. 9. Aggiungi del succo di anguria all'acqua gassata per creare una bibita molto dolce, frizzante, rinfrescante a quasi zero calorie. 10. Crea un semifreddo con una base di anguria a fettine e un top di sorbetto di frutta. Come dessert è ottimo e leggero, per non dire dietetico. L'anguria è ricca di minerali come magnesio e potassio e la consiglio in particolare agli sportivi. In estate potete usarla come energy drink dopo una sudata, sempre a patto che abbiate lo stomaco libero. Distetta, rimineralizza e previene i crampi. Wow, Simona, che gusto! Già, e voi cosa ne pensate amici? Fate così, condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social. E organizzate aperitivi gourmet, franzetti e cenette con l'anguria e stupite tutti. E se vi chiedono dove avete scoperto queste ricette deliziose, piate generosi, fategli vedere questo video. Io vi aspetto alla prossima, sempre qui sul canale, naturalmente. Ciao! Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!